Foro di ania 2004, veterano americano ha avuto una seremonia di commemorazione nella costa linda Beach Resort Aruba per l'onore di turistico a sacrificare la vita per difendere i sirbi nel paese. Veterano ha avuto partecipare nella seremonia di guerra di Corea, Segunda Guerra Mundial, Guerra di Vietnam, Guerra Friu e Guerra Contra Terrorismo, però ha invitato veterano di turnazionalità per partecipare nella seremonia. La seremonia simple consiste in una memoria di turistico a per la vita della guerra che si è partecipare nella seremonia e la salutare nella seremonia che si è toccato la canzone TAPS e il accompagnamento musical durante il interno di Militar. E di forma qui, grazie a tutti i servizi.